almanacchi 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 nuovi bisognano signore almanacchi almanacchi per l'anno nuovo sì signore credete che sarà felice quest'anno nuovo illustrissimo sì certo come quest'anno passato più più assai come quello di là più più illustrissimo ma come qual'altro non vi piacerebbe egli che l'anno nuovo fosse come qualcuno di questi anni ultimi signor no non mi piacerebbe quanti anni nuovi sono passati da che voi vendete almanacchi saranno vent'anni illustrissimo a quale dicotesti vent'anni vorreste che somigliasse l'anno venturo io non saprei vi ricordate di nessun anno in particolare che vi paresse felice e no in verità illustrissimo eppure la vita è una cosa bella non vero ecco testo si sa non tornereste voi a vivere cotesti vent'anni e anche tutto il tempo passato cominciando da chi nasceste caro signore piacesse a dio che si potesse ma se aveste a rifare la vita che avete fatta né più né meno con tutti i piaceri e i dispiaceri che avete passati cotesto non vorrei o che altra vita vorreste rifare la vita che ho fatta io o quella del principe o di chi altro o non credete che io e che il principe e che chiunque altro risponderebbe come voi per l'appunto e che avendo a rifare la stessa vita che avesse fatta nessuno vorrebbe tornare indietro lo credo cotesto anche voi tornereste indietro con questo patto non potendo in altro modo signor no davvero non tornerei o che vita vorreste voi dunque vorrei una vita così come dio me la mandasse senza altri patti una vita a caso e non saperne altro avanti come non si sa dell'anno nuovo appunto così vorrei ancora io se avessi a rivivere e così tutti ma questo è segno che il caso fino a tutto quest'anno ha trattato tutti male e si vede chiaro che ciascuno è d'opinione che sia stato più o di più peso il male che gli ha toccato che il bene e a patto di riavere la vita di prima con tutto il suo bene e il suo male nessuno vorrebbe rinascere quella vita che ha una cosa bella non è la vita che si conosce ma quella che non si conosce non la vita passata ma la futura con l'anno nuovo il caso incomincerà a trattar bene voi e me e tutti gli altri e si principierà la vita felice non è vero speriamo dunque mostratemi l'almanacco più bello che avete ecco illustrissimo cotesto vale 30 soldi ecco 30 soldi grazie illustrissimo arrivederla almanacchi almanacchi nuovi lunari nuovi grazie a tutti grazie a tutti